Gentili telespettatori, buona giornata. Il governo Draghi finirà il 21 di giugno? Potrebbe essere. Il 21 di giugno ci sono le dichiarazioni di Draghi alla Camera, ma dietro le quinte ci sarebbero delle mosse per salvare il governo. La data del 21 giugno è quella fatidica di una resa dei conti in seno al governo. Mario Draghi terrà le comunicazioni alla Camera e al Senato, ben sapendo che corre il rischio di subire un agguato orchestrato dalla parte del Movimento 5 Stelle a quella che sta con Conte, non quella che sta con il governo, capeggiata da Di Maio. E lì si potrebbe poi anche verificare l'ascissione nel Movimento 5 Stelle, portando a un centro-sinistra ad avere ancora meno voti nel gareggiare poi alle elezioni del 2023. Perché una parte del Movimento 5 Stelle si posizionerebbe da solo come era il primo Movimento 5 Stelle, che forse potrebbe allearsi con il centro. Ebbene, però potrebbero trovare la sponda di qualcuno il 21 di giugno, magari di Matteo Salvini, che ultimamente è diventato un uomo di pace. E quindi potrebbe seguire Conte e i suoi seguaci, anche loro diventati elettoralmente uomini di pace, per raccattare qualche voto. La richiesta è di eliminare dalla risoluzione da votare il 21 giugno ogni tipo di aiuto. E quindi è necessaria una delicata mediazione per arrivare a un testo condiviso, che tenga insieme tutti i partiti, e scongiuri una rischiosissima conta. Come dire, si vota, ma si pone la fiducia. E se il governo non ha il voto che crede, va poi a casa per legge, con la questione di fiducia. Tale missione è stata affidata al sottosegretario Enzo Amendola, che adesso deve anche fare i conti con lo scontro a viso aperto tra Conte e Luigi Di Maio. Quindi Enzo Amendola ha la missione di cercare di salvare il salvabile per quella data. Di Maio ha fatto la sua mossa, è uscito allo scoperto, nel tentativo di arrivare a quella data del 21 giugno con una visione più chiara, ed evitare qualsiasi danneggiamento nei confronti di Draghi e del suo governo, dove Di Maio, con il suo sostegno a Draghi, spera di essere poi chiamato da qualche partito di governo nel suo entourage. Dice così, Di Maio, non credo sia opportuno mettere nella risoluzione che impegna il Presidente del Consiglio frasi o contenuti contro il governo. Dichiara Di Maio che può contare sul sostegno dello schieramento atlantista e governista del Movimento 5 Stelle. L'impressione è che alla fine si troverà una soluzione, affinché tutto fili liscio in aula. Conviene anche a Conte, che altrimenti non solo spaccherebbe il governo, ma anche il Movimento 5 Stelle. A chi conviene di questi partiti andare oggi al voto? A Di Maio e alla sua ala governista non conviene, perché Di Maio si trova immediatamente senza stipendio, come gran parte dei grillini. A Conte conviene andare adesso al voto? Forse a lui converrebbe magari mettersi in campagna elettorale per cercare di recuperare qualche voto perso. Il Movimento 5 Stelle va sempre più giù, nonostante ci sia il voto di scambio del reddito di cittadinanza, che vale circa un 10-12%, che sono proprio i voti che ha il Movimento 5 Stelle a livello nazionale. Alla fine si troverà una soluzione, perché nessuno vuole andare alle elezioni anticipate prima di poter avere diritto alla pensione, che è il 22 settembre, quando i parlamentari di oggi avranno fatto 4 anni, 6 mesi e un giorno di lavoro. Perché i parlamentari per avere la pensione non devono lavorare 30-40 anni, ma 4 anni, 6 mesi e un giorno, neanche una legislatura intera, meno di una legislatura per avere diritto alla pensione. È difficile che qualche partito voglia autocancellarsi lo stipendio, però c'è da ricordarsi che sono i capi politici che decidono e loro lo stipendio non lo perdono. Quindi Salvini, Conte potrebbero decidere di uscire da questo governo per andare a fare campagna elettorale dall'opposizione, ma uscendo tutti e due il governo poi non regge. Il governo poi non regge numericamente, si va a delle elezioni anticipate e verrebbero poi incolpati proprio Salvini e Conte e quelli che sono i colpevoli della caduta di un governo sempre perdono voti. E il loro obiettivo invece è quello di recuperare. Per questo che sono combattuti tra rimanere nel governo e continuare a perdere voti o uscirne e sperare di recuperarli. Secondo me, qualsiasi cosa facciano, continueranno a perdere voti, perché sono due partiti che si sono bruciati le loro possibilità. Il Movimento 5 Stelle in realtà non ha più ragione di esistere. Perché dovrebbe esistere ancora questo partito? Per dare un posto di lavoro a Di Maio, a Conte, a Fico, eccetera? Ci sono degli ideali che devono ancora perseguire? No, nessuno. Mentre la Lega, anche la Lega è un partito che sta bruscamente tornando indietro di parecchio. Adesso viene dato nei sondaggi al 14%. E sembra ricominciata la salita di Fratelli d'Italia, che supera quella fatidica soglia del 23%. In un ultimo sondaggio viene dato al 23,1% e la Lega al 14,1%. Quindi 14,1% vuol dire quasi al 13%, a ridosso del 13%. Ricordatevi che le elezioni del 2018 la Lega aveva il 17,6%. sta avendo un risultato ancora peggiore di quando nel 2018 ci furono le elezioni nazionali, politiche. vedremo che cosa succederà il 21 di giugno. Presumibilmente troveranno una sorta di testo condiviso dove tutti diranno di aver vinto. e l'elettorato dirà come. Tutti hanno vinto. Vedrete, se non avrò ragione, che tutti quel giorno diranno di aver vinto, tutti diranno che Draghi le ha ascoltati, perché devono dire che hanno vinto, sempre per motivi elettorali. Grazie a tutti per avermi ascoltato. Vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo alla prossimo video tra una ventina di minuti. Ricordatevi che poi c'è anche Teleitalia Seconda Rete dove sono ricominciati i video e poi tutti questi vengono condivisi dopo qualche ora nella pagina di Facebook che si chiama Teleitalia. Grazie a tutti e arrivederci. A presto.